Sì, anche se sono andato giù in Puglia, a Selina o alla provincia di Forno. Ah, sì, d'accordo! Sì, è un percorso che ho iniziato quattro anni fa. E la faccio, come si può raffinare, e lo scelte, lo ha fatto, lo scelte, lo scelte, lo scelte. Però, come tu hai dato un'ora? Sì, io lavoro in una resection, in un'intero, 4 stelle, in Sbravenzia. Insomma, alterni. Faccio un lavoro amministrativo, sì. Sei sposata? Sono sposata, da non tanti anni, però, una figlia, perché stamattina ho sbagliato il treno. No, non è ricostruzione. Cara Carmen, la canzone che ti tocca per giocare è La donna cannone, capolavori. Non ci sono dei primori. Stesso? No, non è stesso. No, perché non va già nuca. Non ci sono dei primi. Ci sono dei primi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.